Parliamo di mercati finanziari, un contesto quello attuale sicuramente non semplice, molto eterogeneo per tematiche che appunto vanno incidere sullo stesso, parliamo di tassi pressoché fermi, volatilità invece ai massimi. All'interno di questo scenario come si colloca la proposta commerciale di Russell. Grazie, la nostra posizione in tal senso è la seguente, nel senso che lo scenario sta sicuramente cambiando e il ruolo anche delle banche centrali sta diventando sempre più determinante, questo incremento di volatilità ha sicuramente scorso un po' le borse che avevano un po' la scusa per ritracciare sulla base di alcuni indicatori, alcuni shock che si sono verificati recentemente. In questo senso, proprio perché il ciclo sta arrivando a una fase di maturità, il nostro posizionamento dal punto di vista commerciale è sicuramente sull'offerta multi-asset di cui Russell è depositaria da circa 40 anni, quindi è un'expertise notevole, che è consolidata anche dal suo modello di business orientata al multi-manager e al multi-style e secondo luogo quindi emerge anche da parte dell'industria una necessità di maggior delega alle case di investimento verso prodotti di questo genere. Quindi riteniamo che questa tipologia di nostra proposta sia utile in questa fase di mercato a rispondere alle esigenze degli obiettivi dei clienti. Le nostre soluzioni multi-asset le definiamo outcome oriented proprio perché sono in linea con gli obiettivi dei clienti che sono comunque al raggiungimento di progressivi obiettivi di vita non necessariamente ancorati a dei benchmark di riferimento, quindi la ricerca di soluzioni meno direzionali forse sarà un po' la tendenza dei prossimi anni. Grazie mille.